buongiorno a tutti benvenuti sul mio canale qui zenek oggi post partita di pescarabari volevo fare una sorpresa a tutti i tifosi che ci guardano ecco il nostro bomber stefano vieni qua facciamo un saluto un saluto per tutti i tifosi del pescara dopo il gol ieri del bari saluto a tutti ciao a tutti ciao ragazzi sempre forza pescara forza pescara arriviamo arriviamo a 18 20 gol ci arriviamo importante ci salviamo sempre ciao stefano grazie bene abbiamo visto il saluto di stefano pettinari lo dobbiamo salutare assolutamente era d'obbligo dopo il gol la supposta di ieri al 93esimo ai galletti e niente ora vi saluto ci vediamo al prossimo video mi raccomando sempre lasciate like commentate condividete è sempre forza pescara ciao a tutti